Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi porteremo una cosa molto particolare perché tanto tra un po' dovrebbe uscire una cosa che a buon ti piace tanto No Non ti piace Spade Scudo? No No, non ti piace Pokémon Ci passerò solo il resto della mia vita Ok Finché non esce la nonna Però l'abbiamo montato senza avere tutte le carte Quindi Allora Quasi lo budget, diciamo così Sì Quasi Diciamo, le carte importanti ci sono Vai Già da qui noterete che mancano La doppia copia di un determinato Pokémon che è questo Che è una delle basi del mazzo Ovvero Zero ore GX Che con l'energia elettro I tuoi Pokémon attivi con l'energia elettro non hanno costo di ritirata Quindi sarebbe fantastico poter switchare il Reshiram Il Pikachu di Zekrom con gli Zapdos Per l'80 danni In più perché Zapdos se inizia il turno nella panchina e entra come Pokémon attivo Infligge 80 danni Cioè questi 10 infligge sempre più Se succede questa cosa 70 In turno di Zapdos quindi quasi 80 sempre Boh Sì Boh, mica mai Sì Comunque Le carte importanti ci sono L'unica cosa che mancano sono i 2-0 E abbiamo deciso di giocare Il Munchadow E questo Tapu Koko Come Al posto dei Girachi Marshadow perché fanno girare di più il mazzo Tapu Koko perché se ci tolgono o comunque vanno i premi O ci distruggono il Pikachu Zekrom e i Zapdos Almeno abbiamo Tapu Koko Per fare l'ultima cosa finale Per fare dei danni comunque va bene E perché girarci costano troppo Dei danni nel pescare Pikachu Zekrom rompere il culo alla gente Fallo vedere il bello grande che sono bellissimi insieme Io sono Pikachu Altro dico Pika Pika È perché sono piccolino Tu sei quello più grosso Va bene Ci stai? E comunque 11 energie Sono poche perché abbiamo sia Tapu Koko che ce le fa recuperare Comunque abbiamo tante energie che ce le fanno Tante carte che ci fanno prendere energie Svucciare Fare vari Pokémon E così via Esatto La base del mazzo è caricare un Pikachu Zekrom Fagli fare l'attacco Boride Fagli fare l'attacco Boride Carica totale Dagli altre tre energie Per poi usare il Boride E shottare due Pokémon In pratica Ci mancano purtroppo Girachi Che costa un... No Girachi ci fa senza Ci fa senza Girachi Adesso Ah io ho visto degli scambi che Ho visto degli scambi che per un Girachi Ti danno uno zero Quindi contata un po' E Girachi è una rara zero E una GX Ah quindi vale molto Il giusto No però siamo riusciti a Bene o male Quasi a scalare Come potete notare Siamo stati Abbiamo scalato tantissimo In un giorno Serie di vittorie zero Giusto per iniziare bene il video Ho penso prima Apposta 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 Vai dai Questo è croce Io faccio sempre Non mi chiedere perché Ti ho detto Ti ho compito il World Croce Avresti avuto ragione Allora Vedi? Vedi perché odio sto mazzo? In questo caso Hai Lili Vabbè Che mi ha appena preso Il problema è che Ho parto con il Monshado O Fortunatamente Tapu Koku Qui c'è Bene mare Perché comunque L'abilità Non si attiva Quando entra Ma quando è in panchina Invece Monshado Quando entra Quindi Monshado Lo avresti sprecato Evolutamente Eh che cazzo però Mi goal match Mi sa di sì Ok Mi sa che è partito male Lui Sì anche Perché noi siamo partiti benissimo Noi ricopriamo Io mi sento che ricopriamo Si fidi Si fidi di me Fai di Lili E poi Io pesco due Perfetto Ah no perché Il primo turno Pesco otto Otto è vero Che è il primo È vero Che è pertissimo Lili Non pensavo Carica l'altra Cominciamo a caricare La carta L'è già giocata Purtroppo L'energia si Ma lui ci interessa Particolarmente poco Yes Grazie Quando fan così Vuole chiamare lo stesso mazzo Ah ok Questa è buona Però per il momento La tarai qui E non giocherai altro Marshadow Per mescolare Per mescolare Quella no perché Lo favorisci anche Sì no Soprattutto per quello E poi perché Se giocassi Marshadow Rai mescolare Invece se pescassi Un'energia Il prossimo turno Di giocherai questa Energia Energia Se la pesco Oppure Marshadow Per mischiare Bello che comunque Gocando un skateboard Che abbiamo giocato Alla fine Non ti ricommesso Il posto 0 Sì Perché lo skateboard Abbasso di 1 Il costo Di Anche se poi è bello Che si ritira Anche se poi è realizzato Cioè è comodo Su questo punto di vista Quindi se metti Anche se è addormentato Mi sembra Ah Questa è la partita Questa mi sa Che verrà tagliata No no la tengo Questa la tengo Top Danie Danie freddi Zero Bellissimo Allora Vista Per compensare la partita Vinta Vinta Ci sta Se adesso Doviamo 0 Ora prendo altre 30 Buste Va bene Torniamo a sfida Il giocatore Hai visto il suo portalec No Non ci ho fatto cassa Ci sono picche Mi sa che questo mazzo È poco giocato Ecco Questa è una partenza forte Oddio Questa è una partenza forte Questo è bello Che aggiungi Un'energia reattro E uno strumento È forte Perché allo strumento Puoi prendere quello che è potenza Questo è l'altro Che va in combo Con lui Se non ha Pokemon in pachina Potrei shottare Cosa fai? Eh non abbiamo Ah Sì Prendi fune No Prendo scambio Perché ha fune Beh A cazzo te ne frega Scambio fune Ne hai di roba Scusi Non volevo Dai Ma Dimmi che non metti Pokemon in pachina Ah per cazzo L'ha messa Eh Un altro Una 0 Questo è Pikachu Zekam E questo è Zapdos No Che cazzo Di mazzo Dai guasa Zero Ora Ah ma quello forse base base Ah No io non lo so Quello base Però comunque abbiamo pescato Fune di fuori Dici Abbiamo pescato fune di fuori Ah ok Quello fuori è forte Lo switchi Switch anche lui Allora io intanto carico Lui Poi Quello Corrado Prendo Lo La ultra ball E un'energia Esatto Poi Uso Una ultra ball E scarso Scalto Lo scambio Multi Pro E L'altro Scambio L'altro Scambio normale No Pone di fuga O quello 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 che lo puoi recuperare Perché lo puoi recuperare Il problema è adesso Prendo Allora Dedenne mi scalto tutta la mano Quindi mi scalterrebbe anche quelle tre carte Marshadow Me le farebbe mischiare E a lui gli do sempre quattro carte in mano Ultimere poi per il turno dopo Con la tipina Contra pulere Sì così In modo da prendere Camilla Esatto Camilla o Lili addirittura Non so No Camilla Perché ti fa pescare Sì Non lo so Però Dedenne Dedenne cosa fa già Mi fa scaldare la mano E pesco se le carte Vai Fai quella Mi sento Gioca Dedenne Ok Giochi subito Dedenne E Così ti riciclo No Dedenne rimane lì Prossimo turno Sì Va bene Vabbè Prossimo turno cosa fai Se tipo peschi una carta Do energia A chi A chi Che mi pare Tanto puoi usare Scambio di energia Che tanto potrebbe essere Scaldato da Dedenne Ah è vero Farò Energia Probabilmente A Zapdos Sì No Energia A uno dei due Perché poi gli Ascam A Pikachu e Zekrom Perché con Dedenne Se pesco lo stadio Oppure Eh che cazzo però Allora Allora Mi fai Zapdos No Perché se pesco lo stadio O comunque Adesso giocherò a Dedenne Non abbiamo visto se lo stadio Adesso se lo stadio c'è Ok Giocherò a Dedenne Per non giocare Camilla Perché Camilla Ah ho capito Perché Dopo non Se pesco Perché se adesso pesco Quella che mi fa prendere la prisma Ah ok Che in questo caso non ho pescato No la puoi Però la puoi giocare Non ti una frega niente Vai Tapughere No l'altro Tapughere Vedrai Perché io adesso posso fare No devi giocare lui No ho capito che devo giocare Tapughere Però devo decidere Ok Lui te lo rendi Se giocare Tapughere Per prendere Per essere sicuro di prendere la prisma Lo giocherai Perché con Rai Io pescarei Cinque calte Perché ne pesco una Poi ogni po' C'è il mio avversario Ok Io farei Tapughere Allora intanto Andiamo a Skateboard A Dedenne Io farei Tapughere Tapughere Perché prendo sia Aspetta Odere Scusate Eh sì Prendo No Ah Odere 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 No Non ho delle energie Beh Lo metto comunque in gambo Prendo sul panel 2 Che ha altre prisma O Tapughere O Tapughere O Prisma Nei premi Eh vabbè Vai Guardate Montetuono Non è anche comune Non ci fai così Carica totale Così carichi già qualcuno Io potrei caricare D'altro Tapulele No O Tapughere Eh Tapughere Scusa Non Tapulele Cosa dico O potrei dare direttamente a lui In modo che Al prossimo turno Beh L'altro Premozionare In modo che al prossimo turno O gli shot 2 pokemon Sì Quindi potrei shotare gli zero ora E il magnemite Sì fai così Sì perché tanto io al prossimo turno Non pesco Minimo 4 calte Per effetti E poi rischi che sai cosa L'ospitalità Bello Bello Potrei buttargli dentro Chi mi parla È bello che metti caso Lui ti gioca un po' Come che dà fastidio Puoi switchare con Zapidos E far con quello che attacca Ok Zero ora Per l'energia Sì però quello Comunque è troppo bello Ah zero ora attacca Può attaccare Sì però Mi infligge 100 O 150 Dipende da quanto tira No no Ho giocato TapuCoco Ho sposto tutte le energie Su TapuCoco Che mi fa 130 No Mi fa Scusate Mi fa 200 O 250 No mi fa 250 Mi ammazza Beh TapuTuOno Allora Ho capito cosa vuoi fare Puoi switchare Zapidos Con zero Zero energie 110 danni Puttale via Sembra onestra Tanta roba Sì stavo pensando Scusate Anche perché Se avendo occorrato Posso essere sicuro Di prendere un'energia Quindi di poter Attaccare con Picture Zekon Ah è vero È vero Non ci avevo pensato Che Tanto Ugo adesso Ah beh Col fatto che non può più attaccare Con qualcosa di X Sennò mi avrebbe fatto zero danni Perché lui non ha energie Ah fa pari il danno Lui fa Lui fa No ho sbagliato Lui il suo attacco di X In finché 50 Per ogni energia Che ha il mio pokemon attivo Ah ok Ok Adesso fai così Attivi Corrado Corradino Corradino Ti prendi l'energia E devi prendere uno strumento No Se vuoi potenziare uno strumento Se vuoi potenziarlo Se vuoi potenziarlo Vedrai che adesso Quella calda Vedrai perché Ho capito Ho capito perché adesso Adesso l'ho capita Adesso l'ho capito Perché dopo te Tivi così Perché Zappo adesso Adesso qui Sì mi sarebbe utile Ma preferisco fare così Mentre ho nel mazzo E prendo il mashado Per ciclare il mazzo No Non più per ciclare il mazzo Ma per il togliere Perché lui funziona anche per l'altro Quindi guarda che Lui ha tutte quelle carte in mano Sì sì Gli vanno Quattro carte Cazzo Non è mica male Non diamo più E io ho pescato Niuro Zappos E poi E Chris E Chris che è forte E poi pescato Banda di spietta Se vuoi dagliela E diventa ancora più forte Cioè Non è Purtroppo Non abbiamo tutte le carte Però abbiamo visto che È ben bilanciato Come no Cioè Anche se abbiamo tutte le carte Guarda Ho le energie contate Per fare l'altra carta A bucoco Perché Sì sì L'altro purtroppo L'abbiamo nei premi Pesco due carte Sì Guarda Camillo Da A bucoco Dacci a bucoco E vai L'ho chiamato Grandissimo Ah sì Ho 5 energie negli scalt Esatto Perché lo l'ho contato prima Ma vieni Ok Quindi lui ci può fare 130 130 Però non ci butto No Ho un'idea Se pesco il potenziatore Attico che tanto ne ho 4 Non ammazzo Io ho one shot Qualcosa avrei più scala Perché Perché comunque O Camilla o lui Perché Anche lui l'ha pescato Sì Se io ho più Infeggia altri 170 danni Non posso usarlo Perché l'ho già usato Con Tapu Koko Comunque l'ho pescato Vabbè Vof lo sottiamo Vai Perché vedi Io adesso in questo caso Potrei fare Così Vedi Sì A posto Finito Ho un'energia A cazzo Fai Takuji A cazzo Proprio 2,60 Comunque con il terreno Cioè il terreno Stadio Non so Sì sì È rottissima Montagna del tuono Monte del tuono Un'erobblessia Cioè un costo in meno È bello Va bene Un altro Trofino Comunque l'abbiamo fatto In neanche un giorno Scusati Scusati Oggi Nel video Cioè veramente 50 light Se ne lasciate 50 light Portiamo avanti Stasera Ci stai Chi sto Se no Non lo portiamo più Detto molto Papale 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 Stato di ciocco Comunque Ci siamo in privata Ci siamo in privata Esatto Guarda quanto giallo E quanto verde Chiamo a zero ora Ma va I poi gli annoni Sono utili Se tu ce li hai Tipo Xodia Se tu ce li hai I suoi cinque Vinci la partita No Allora lo voglio Quel mazzo No Non è vero Ah ok Sennò ti montavo col mazzo Io sono Eh È il secondo Ah è buono Però uno è non scambiabile Questo è scambiabile Vabbè è buono Mimikyu Mimikyu è chi? È carino Io lo giocavo in competenza Il mio Pokémon preferito Di settima agenda Ah Cupione Il Tapu Koko sto alto Questo vale un botto Mi hanno fatto 4 buste Per questo mi inganno Bene bene Non mi sono mai informato So solo che Ti danno un botto di buste Ora facciamo girare Qualche caso di cosa Noi infatti abbiamo Motoni pelluti Per cercare Vedi questa è la carta Che ti dicevo Per Malcia pelluta Sì sì Quello che mi dicevi Ecco Ecco lì Prossimo mazzo che porteremo Se riusciamo a montarlo 5 buste Siamo a metà Abbiamo trovato un Mimikyu E un Magagnum Piautrissio E' ammureti Bello sto fanfi Che cari Bella È cucitissimo È cucitissimo Addio Sei fatto di stoffa Ho un doom Ultima Ultima Tanto non siamo mica così fortunati No ma va è impossibile Ditto Ditto prisma Va bene dai Noi vi salutiamo Noi salutiamo qua Spero che vi vede piussuto Ah non so se avete Ciao 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 alla prossima Ciao